Slitta la prossima settimana la riapertura della E45 chiusa dallo scorso 16 gennaio tra le uscite di Val Savignone e Canili. Mancherebbero però ancora semafori, cartelli e autovelox competenza della prefettura, elementi che appunto indicano con ogni probabilità uno slittamento della riapertura che a questo punto potrebbe avvenire nella prossima settimana. Durante una riunione in prefettura che si è svolta la mattina di giovedì 7 febbraio è stato poi deciso che dal versante romagnolo la E45 sarà aperta fino a Vergheretto per i mezzi pesanti. Qui saranno fatti obbligatoriamente uscire e parallelamente si è concordato di rafforzare la segnaletica nei pressi del casello di Cesena con indicazione che l'unico collegamento verso la Toscana per i mezzi pesanti è la A14. A preoccupare, come sappiamo, è la viabilità alternativa sulla quale per il momento tutto tace. Proprio su questo tema per il prossimo 16 febbraio è in calendario una manifestazione all'uscita di Canili per protestare contro il silenzio del governo.